Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata qui sul canale di Clash Royale Allora ragazzi miei, oggi andremo a vedere dei deck interessanti, in realtà un solo deck Oggi nel prossimo settembre vedremo un attimo dei deck simili Ovvero dei deck fatti soltanto di carte di un solo genere In questo caso inizieremo dal genere più classico, ovvero le classiche carte normali che troveremo sempre Infatti abbiamo creato già un deck che è questo qui con delle buone carte, devo essere sincero Che fanno il loro sporco lavoro, l'unico problema in realtà al momento è che vorrei in qualche modo avere qualcosa di un po' più decente Per formare tipo dei principi, perché ne ho trovati un paio mentre stavo giocando, un pochetto E sono un po' sceso di coppia, quindi in effetti forse per quello che li trovo più di principi, perché prima non li trovo mai Comunque, a parte questo fatto, queste sono le carte Ho frecce, i nostri bellissimi barbari, la nostra scarica, sgherri da 5 Poi abbiamo Goblin, Tesla, Cavaliere e i nostri Goblin Lanciari Quindi comunque delle carte normali che molti usano, che comunque usano in combinazione con altre carte, mi sembra anche giusto Però oggi vedremo soltanto questo deck E ovviamente non seguirò, mi dispiace, il vostro consiglio di fare qui nel nostro modo di prova la partita Anche perché effettivamente ragazzi non è diciamo molto bello In realtà si vince abbastanza facilmente perché sono contro la CPU, quindi non è molto figo Quindi andrò a giocare una normale partita, qui a 1500 coppe, dovrei anche aprire qualche valore omaggio sinceramente Ma li apro adesso tranquillamente, tanto non devo trovare nulla E iniziamo subito facendo una bellissima battaglia Vediamo un po' cosa riusciamo a fare effettivamente ragazzi Allora, siamo qui, vediamo un po' contro un tipo abbastanza strano con nomi strani, va bene E allora iniziamo al solito utilizzando i Goblin Lanciari che sono delle truppe fantastiche E ho una truppa che nessuno usa in questa deck, ovvero il Cavaliere che è molto molto potente Che a mio parere è una delle carte più potenti in termini di prestazioni, di DPS e cose del genere Quindi ve li consiglio ragazzi se volete Ok, oh merda Ok, allora effettivamente non è stata forse un'ottima idea anche perché ha camminato abbastanza facilmente Eh ma porca merda mi hanno distrutto anche quelli E niente, mi ha fatto del danno, sono un idiota perché effettivamente non ho in nessun modo fermato quell'avanzata In, in altra maniera, cioè buttato gli sgherri e ho detto beh si faccio gli sgherri però Eh, non è proprio stata un'idea fantastica Quindi per il momento ributtiamo di nuovo l'oro Ok E ragioniamoci un po' caso Lui ha delle carte interessanti, va bene Non troppo brutte, per sincero E farà la stessa mossa di prima Cioè vi niente conto Doppia mossa di prima Però questa volta no, questa volta sono più furbo Aspetto un attimo di avere abbastanza carte e mi butto Diamo un po', niente, lui butterà quello Va bene, butto così con i copri di lanciare E con il nostro cavaliere Il cavaliere non lo andano a counterare, volete vedere? Guardate Guardate quanto ha levato il cavaliere e il coso insieme ragazzi Fantastico Buttiamo questo Ok, ah, vero, non riesco a uccidere quelli con un solo colpo E devo buttare questi per forza Barbari Merda Eh, vabbè, non sono riuscito a fermarli prima Ok, meno male che l'ultimo colpo non l'ha dato Almeno quello E vabbè, siamo più o meno Un pochetto in svantaggio noi Ma nemmeno troppo ragazzi Quindi va bene così, va bene Ok, frecce Qua Ok, sono morti Va bene Allora, giochiamocelo molto bene Abbiamo perso metà vita in entrambi dei torri Però non abbiamo troppe difficoltà rispetto a lui Ok Vediamo un attimo di distruggerlo Perfetto Questi Ok, ragazzi Ha missato le frecce È il momento giusto di attaccare In questo momento Vai, vai, vai Allora ragazzi Se riesco a fare abbastanza danno Poi vi difendo come la merda E sono a posto Ok Forse è tempo anche di piazzare una bellissima tesla lì Oh Hog rider Ok, non è che ho piazzato la tesla prima lì Così, così sono a posto E sicuramente al momento vorrei andare così Vediamo un po' come andiamo Ah, merda Vabbè sì, comunque Vedete il cavaliere e tutto il resto Fanno Abbastanza male Fanno E se faccio così E faccio Ah Maledizione Mi ha distrutto tutto Mi ha distrutto Non ce la farò mai nella vita da andare Però forse 180 Li leviamo Con i bilancieri Ragazzi, sapete Vediamo un po' Qua dovrei fare così per forza Perché niente Sono truppe Tutte aeree 60 forse riesco a levarli Ah, merda 8 Ciaone Ciaone amico Bam ragazzi Ok E ce l'abbiamo fatta Solo con le truppe Normali Quelle Insomma Non rare Non cose normali Sono le truppe più facili da trovare Perfetto Abbiamo fatto quindi Bellissimi 30 30 trofei E abbiamo anche preso Una bellissima coppa Quindi va benissimo Ragazzi Fatemi sapere qui sotto Nel commento Se vorrei vedere altre carte O se avete comunque Dei deck Da consigliarmi Che poi vedrete nelle poste mutate Da questo è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata